Amici e amiche, un buongiorno dal vostro dottor Marcellis, oggi parliamo di un problema molto grave, un problema che affigge le vostre famiglie, tutti voi familiari, avete questo problema perché è un problema troppo diffuso in Italia, ebbene si parliamo di grasso, grasso superfluo, parliamo di cellulite, chi di voi telespettatori non ha un po' di cellulite? Forza avanti, voglio in spiaggia queste manigliette dell'amore, queste cosciotte che si vedono subito quando uno mette il costume, ebbene noi della Master in Comunicazione e in Società abbiamo la soluzione ai vostri problemi, questo è un semplice prodotto che serve per risolvere tutti i vostri problemi di grasso, grasso superfluo, manigliette dell'amore, eccetera eccetera, 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 qui, è la magia, il preparato della scienza in un piccolo barattolo da 400 cm, ma io non vorrei perdere tempo amici, vorrei subito darvi una dimostrazione ricordandovi che il nostro prodotto si può acquistare a sole 199 miliardi, più piccole spese di disposizione postale che mi tasco io, bene e ora prendiamo, ecco quello che non dovreste essere voi, vediamo, guardate, la ciccia che straborda dalla canottiera, qua non va bene, amici, l'immagine è importante a mondo d'oggi, è importante l'immagine, dobbiamo eliminare questa, vediamo questo signore, il signor Silvano, vediamo, vedi, fa anche fatica ad alzare, guardate, guardate la floscienza di questa pancia, ma stiamo scherzando amici, ecce di mezzo l'immagine della vostra famiglia, ok, adesso io vi faccio vedere, guardate, quanto esce questa parte di intestino tenue che straborda dallo stomaco, ora io con la semplice applicazione del nostro grande prodotto vi faccio vedere come tutto è possibile risolversi, per esempio può alzare questa canottiera, guardate, è anche pieno di piedi incredibile, allora è molto semplice, basta bagnarsi leggermente le dita e applicare il nostro magico prodotto, stia fermo e aspettiamo un attimo così, ecco, ecco qui, amici, l'incredibile è avvenuto, guardate questa pancia come in un minuto è cambiata e guardate la persona come, guardate, è incredibile, una sola applicazione sulla pancia e guardate come tutta la figura cambia, sembra più lungilina, guardate, anche sembra che ha più capelli, è incredibile, amici, quindi non perdete tempo, il nostro prodotto è solo, scusate, avanti, dov'era il mio, il mio detersivo l'avevo lasciato qua, no, la mia, come si chiama? Ah, no, dottore, buongiorno dottore, cosa fa? No, ma lei non era mica dottore? No, ma lei si sbaglia, no, ma lei si sbaglia, no, ma lei si sbaglia, guardate, guardate, qui si sbaglia, no, ma lei si sbaglia, guardate, questo è prodotto per il grasso, lei vuole prodotto per la calvizia? Sì, dottore, sì, dottore, sì, dottore, sì, dottore, sì, dottore, un attimo, è proprio quello, amici, è proprio quello, 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 Ma venga che le faccio ricrescere i capelli, venga che le faccio ricrescere i capelli, venga che le faccio ricrescere i capelli, ma vengo, scusi, ok, drawings, mette qua, amici e spettatori, anche questo cosa solo, 199 mili e le spese di spedizione, hai muozzo tutt'altro, sembra il stesso prodotto di più, ma non è non siamo qua mica per imbrugliarvi non l'avete mai pensato basta una semplice applicazione anche di questo e guardate come in un momento la sua polizia potrà sparire ecco qui e vediamo guardate amici come i suoi capelli si sono involtiti e guardate è scomparsa anche la pancia è incredibile è prodotto 2000 amici infatti hanno parlato chiaro avete visto voi con i vostri occhi da casa questo prodotto il signore è qui prima quindi cosa aspettate telefonate al numero che vedete in sovraimpressione magic pancia cicetta capelli sono i 199 mila più spese congratulazioni dottore lei mi ha redatto una nuova vita devo ringraziare quest'uomo e questo prodotto compratelo al numero di sovraimpressione ma dottore dottore 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 6 7 8 8 9 9 9 10 10